Il 19 dicembre 2011 Siamo nell'Aulamagna delle Molinette E' intervenuto il Ministro della Sanità Renato Balduzzi Al convegno organizzato dalla NAO sul piano sanitario regionale piemontese Tra sostenibilità e innovazione Allora innanzitutto signor Ministro Come lo chiamiamo il suo Ministero della Salute e della Sanità? Le leggi vigenti dicono Ministero della Salute E credo che sia opportuno Nel senso che la sanità è una componente indispensabile Naturalmente della salute C'è l'organizzazione sanitaria, la prestazione dei servizi Ma i risultati di salute non dipendono solo dall'organizzazione sanitaria Dipendono da altri fattori Gli stili di vita, le abitudini Il come è organizzata una città, un territorio Ecco tutto questo fa sì che alla fine vi sia un risultato di salute Chiamare il momento nazionale abilitato a proteggere questo interesse Il Ministero della Salute vuol dire fare una scommessa Sulla capacità di mettere insieme tutti questi fattori Ok, tra tutte le varie gatte da pelare che sono state assegnate a questo governo Quella della sanità e della salute come la possiamo definire dal punto di vista zoologico? Beh diciamo è una gatta che ha una certa età Che ha un comportamento complessivamente positivo Che qualche volta sbanda, che qualche volta dà un po' i numeri Il pelo si arruffa, fuori di metafora È un sistema con molte luci e con qualche zona d'ombra Che le molte luci devono riuscire a illuminare Le zone d'ombra dove sono? Le luci più o meno le vediamo tutte Le ombre invece qualcuno magari non la ve Le zone d'ombra sono nella ancora troppo limitata attenzione All'esigenza da parte degli operatori Da parte dei governanti a tutti i livelli Da parte degli utenti Che le prestazioni sanitarie debbano essere appropriate Non è detto che più prestazioni significhi più salute Occorrono le prestazioni appropriate, quelle giuste E nel modo giusto Se non ho bisogno di un ricovero in ospedale Ma basta un day ospita Non devo essere ricoverato tre giorni o quattro giorni Se non ho bisogno neanche di un day ospita Ma mi basta un intervento ambulatoriale Non ci vuole il day ospita Questo è un esempio semplice per capire Come le prestazioni in sanità Non si debbano tanto misurare per la loro quantità Ma per la qualità Lei è piemontese Che cosa può portare Come contributo A miglioramento della sanità nazionale del Piemonte Di specifico? Il Piemonte si caratterizza da sempre Per una fortunata combinazione Tra i due elementi Della sobrietà e della solidarietà Sobrietà perché noi non siamo gente da fronzoli Noi piemontesi E solidarietà perché nella nostra storia C'è un'attenzione ai più deboli Ecco, combinare queste due parole E queste due entità È un po' il contributo piemontese Al servizio sanitario nazionale Ospedale territorio Qui in Piemonte Adesso ci sarà Il piano sanitario regionale Sembra che punterà su una rete ospedaliera Di nuovo tipo Meglio organizzata Eccetera eccetera In realtà come si può attuare L'integrazione tra ospedale e territorio Che poi è il nodo fondamentale Voglio dire Indubbiamente una buona rete ospedaliera È la premessa Per poter andare al di là della rete stessa Cioè occorre anzitutto Che gli ospedali siano messi in rete Secondo criteri di efficienza e di efficacia E credo che l'impegno della regione Piemonte Vada in questa direzione L'importante è che tutto questo sia fatto Attraverso un confronto con gli operatori Attraverso una spiegazione delle proprie decisioni Non semplicemente attraverso delle decisioni Che passino naturalmente O che si pensi possano passare sulla testa degli operatori Però credo che la direzione presa Sia una direzione importante E a quel punto bisogna legare Il sistema di territorio con il sistema ospedaliero Le regioni più virtuose sono quelle Che hanno una buona rete ospedaliera E buoni servizi sul territorio E quindi la direzione non può essere che questa Una riforma degli ordini professionali Una sanità senza ordine dei medici è possibile secondo lei? Ma il problema non è dividerci ideologicamente Ordine sì, ordine nuo Si tratta di avere dei buoni ordini Degli ordini che facciano Anzitutto l'interesse pubblico per cui sono stati creati Quello dei cittadini in quattro Quello dei cittadini certamente Grazie signor Ministro Buona permanenza qui a Torino Grazie 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 a tutti